Ieri contro oggi Tenersi in contatto Come era una volta Caro Marco, ci conosciamo da poco Ma quando ti vedo il mio cuore batte più forte L'aria è più profumata I colori sono più accesi E il mio sorriso è meno timido Come oggi Ciao, come va? Tutto bene? Come lo facevano Aiutaci a sostenere questi piccoli gattini Miau, aiutali Come si può fare ora? Andare da qualche parte Una volta E oggi Ehi Sirio, portami a piazza del popolo Certo, itinerario impostato Arriveremo fra otto minuti Cosa farei senza di te? Cara, ti porterei anche sulla luna Se solo la benzina costasse meno Affrontare un lockdown Cosa avremmo fatto? Cosa siamo riusciti a fare? Buongiorno Ben ritrovati Dunque, vedo che c'è ancora qualcuno Con la telecamera spenta Per cui cortesemente Accendete la telecamera Che così iniziamo la lezione Le nuove tecnologie Non sono né buone né cattive Tutto dipende da te Né nelle tue mani Grazie a tutti Grazie a tutti